bene siamo qui con la dottoressa martellacci e ciao volevo chiederti come hai vissuto questo corso magnetic sales e se ti è piaciuto per cosa allora sì mi è piaciuto perché mi ha aiutato a capire quali sono ancora le difficoltà che trovo nel fare accettare tutti i preventivi perché magari quelli un pochino più facili li riesco a gestire meglio su quelli un po più importanti magari ho ancora qualche difficoltà e allora dici ma dov'è che sbaglio dov'è che devo migliorare ecco che qui vengono sviscerate un pochino le problematiche che ancora mi creavano delle difficoltà a chiudere i preventivi ecco grazie c'è qualcosa che ti porti a casa in particolare allora sì devo approfondire alcune questioni con i pazienti cioè andare a analizzare meglio quali sono le loro problematiche per capirle in primi sì io e poi proporre la soluzione davvero più idonea al loro problema perché ho capito che se non capisco prima io cosa andare a chiedere a loro poi non si arriva alla conclusione giusta ecco perfetto ti ringrazio grazie a voi buona serata a te